La ludopatia al tempo del Covid-19. Sul territorio nazionale circa il 13% l'aumento del traffico del gioco online e soprattutto sono aumentati i gruppi d'ascolto. Da una parte lo Stato incentiva quelli che sono il consumo dei grattevinci o del gioco online o delle sale scommesse e dall'altra parte spende altrettanti soldi per il recupero. Andiamo a sentire qual è la verità. La dipendenza da gioco d'azzardo si inquadra all'interno delle new addiction, le cosiddette nuove dipendenze, perché è una dipendenza comportamentale. Quindi si fa anche molta fatica ancora a comprenderla, nonostante poi sia uno spaccato terribile che riguarda la nostra società e in particolare l'Abruzzo, lo sappiamo ormai da anni. Sicuramente questo è un problema, anche le continue pubblicità che passano in televisione, il cosiddetto giocare con attenzione, giocare senza esagerare. Comunque sappiamo che il gioco attecchisce sulle persone quando magari ci sono delle difficoltà altre e quindi il gioco poi diventa la punta dell'iceberg. Si va lì, le persone vanno lì magari a sfogare delle frustrazioni, dei problemi, delle negatività accumulate durante i nostri giorni frenetici. Ho fatto un percorso molto importante alla ASLE di Teramo, al CERD, di tre anni e fortunatamente ce l'ho fatta. Raccontiamo nei momenti in cui si è malati, affetti da ludopatia. Beh, nel mio caso, per me la vita familiare, la vita di ogni giorno non contava. Il mio obiettivo era solo il gioco. Io andavo a letto la sera e mi alzavo la mattina subito col pensiero di come trovare i soldi, magari andando dai miei familiari, da mia madre, con una semplice scusa perché il giocatore è bugiardo. Si arriva anche a rubare? Sì, per trovare i soldi per andare a giocare. Io in famiglia c'ero ma non c'ero. Infatti ho rischiato di perdere la mia famiglia e i miei figli. Grazie a questo percorso, che adesso continua, perché con il sostegno che io do in associazione per gli altri, per aiutare gli altri, mi fa continuare a lavorare anche su me stesso.